Eccellenza, ci sono nuove più stringenti ordinanze da parte del governo italiano. La gente è disorientata soprattutto nei piccoli centri come il Molise. Come rassicurare la popolazione e i fedeli che sono soprattutto anziani in regione? Innanzitutto bisogna comprendere che queste indicazioni vengono date per il bene di tutti e per il bene dei singoli. Quindi non sono evidentemente delle restrizioni punitive, sono delle restrizioni a carattere igienico-sanitario che corrono nella direzione del bene comune. E questo deve entrare un po' nella convinzione soprattutto dei giovani, perché magari i giovani un po' nell'esuberanza della loro età sono portati quasi in maniera connaturale a far conto che queste indicazioni non siano importanti. Invece lo sono, lo sono e lo sono anche molto. E con un grande afflato di speranza perché, come diceva Edoardo De Filippo nella celebre commedia Filumena Marturano, ha da passare a nottata. Quindi passerà, ecco, tra l'altro le notizie che vengono dalla Cina, che vengono da Codogno, cioè come queste restrizioni abbiano effettivamente segnato il restringimento, il contenimento del diffondersi del virus, ecco, sono per noi certificazioni di speranza. Quindi con un po' di pazienza, con un po' di comprensione. Per quanto riguarda anche la vita religiosa, le chiese non sono chiuse, il Signore è sempre presente nelle chiese, dunque nelle nostre case. È un modo anche di sperimentare un po' il cosiddetto digiuno eucaristico, perché tante volte l'abitudinarietà potrebbe giocare degli effetti anche un po' pericolosi per la nostra spiritualità. Quando non si ha il pane, allora si apprezza che cosa significa, e questo vale anche per l'eucarestia. Ecco, quindi si può pregare nelle chiese, naturalmente non creando mai assembramento, i sacerdoti mantengono le loro chiese aperte, si può andare in diversi momenti della giornata, si può fare la comunione spirituale, poi anche sul sito della nostra diocesi ci sono tutte le indicazioni addirittura degli orari delle sante messe, dei rosari, veramente si è intensificata questa azione. E io ringrazio le mittende TLT per la disponibilità a trasmettere anche dalla mia cappella privata, domenica, la santa messa, di modo che i miei diocesani, i miei fedeli, ecco, possono unirsi con il loro vescovo nella preghiera domenicale.